...o verticalizziamo sui piedi, sui piedi, non abbiamo la fisicità, quindi cerchiamo di giocare palla a terra, nello stretto e di stare molto vicini, i 40 metri tra il portiere e il Simone, ok? Buon divertimento, fatemi divertire, cioè giochiamo una volta tanto, tanto ci abbiamo due partiti in casa, l'obiettivo lo possiamo fare, due partiti in casa e stanno... quello che esce da qua è un di più, noi abbiamo una partita in più se non addirittura due in più, non lo so, comunque non è che non va, cerchiamo di divertirci, di giocare a terra e di giocare la squadra, ok? Dai! no facciamo i pippo urrà il pitto no no posso su e per i pippo urrà 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 urrà